Gli occhi restano tutti puntati su Palermo. Dopo l'insediamento dei deputati regionali, della nomina del nuovo presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, la maggioranza tenta di misurare le forze al suo interno e capire che cosa accade, soprattutto con Forza Italia, con il partito che al momento è in fibrillazione al suo interno per le diverse posizioni, tra quanti sono al momento stili al nuovo governo, vedi Gianfranco Miciche, e quanti invece lavorano per moderare le posizioni, vedi Marco Falcone. A prima votazione abbiamo deciso di non votare, personalmente non ho partecipato al voto perché ritenevamo che la maggioranza non avesse i 47 voti necessari per traguardare l'elezione dell'onorevole Galvagno al primo turno. Abbiamo quindi, ci siamo dati appuntamento al secondo turno, dove 43 voti hanno fatto conseguire a Gaetano Galvagno una elezione imponente, significativa. Abbiamo votato, così come da accordi elettorali e di programma, l'onorevole Gaetano Galvagno, che siamo convinti, riuscirà a rappresentare con grande prestigio la nostra terra e l'Assemblea regionale siciliana. Non è ufficiale, visto il voto segreto, ma determinante per l'elezione di Galvagno a presidente, permettendogli di ottenere i 43 voti alla fine registrati, è stata la decisione di Cateno De Luca e del suo gruppo, che aveva deciso di astenersi durante la prima votazione. De Luca voleva diventare l'ago della bilancia e alla fine sembra esserci riuscito, non escluso dunque, una vicepresidenza per lui. Noi abbiamo l'intenzione di portare avanti comunque quello che è il nostro programma di cambiamento della Sicilia e quindi i nostri dieci comandamenti programmatici li tradurremo in dei disegni di legge, faremo la nostra giunta e quindi sarà non solo un contraltare, ma ci sarà anche un confronto perché al di là di quelle che sono poi le diatribe della campagna elettorale, noi interessano i risultati che poi interessano anche alla Sicilia. Come esordio questo governo, questa maggioranza inizia ad avere qualche scricchioria, qualche malumore, qualche mal di pancia. La cosa che mi preoccupa è che questa regione non può più aspettare, abbiamo aspettato già per i ritardi dovuti ai rallentamenti nella proclamazione, ma non dobbiamo più attendere perché ricordiamo che questo governo deve giurare davanti al Parlamento, mi auguro che Schifani lo faccia presto, faccia presto questa giunta. I veri problemi di questa regione non sono a volte rappresentati da questo palazzo che si perde in orpelli, la gente chiede concretezza. Sempre nella minoranza PD e 5 Stelle annunciano che la loro sarà un'opposizione vigile e attenta. I siciliani ci hanno messo all'opposizione, faremo un'opposizione nell'esclusivo interesse della nostra terra, ma sarà un'opposizione ferma e decisa, ma anche nell'interesse dei siciliani. Una Sicilia che riparte con questa legislatura con gli stessi problemi che ci sono dalla vecchia, i temi che riguardano i rifiuti, l'idrico, le riforme mai fatte al governo Mosumeci, quella sulla pubblica amministrazione, la riforma dei forestali e ancora i temi che riguardano i servizi pubblici essenziali, la quadratura dei conti di bilancio. Serve mettersi subito al lavoro e speriamo anche di vedere il governo in aula al più presto. Soddisfazione intanto per Fratelli d'Italia che ha ottenuto la presidenza dell'ARS. Presidente del Senato, Presidente dell'ARS, Presidente del Consiglio, tutti i Fratelli d'Italia. Beh sì, questa è la dimostrazione che la coerenza paga, il lavoro paga e probabilmente nessuno avrebbe scommesso su tutto questo, forse nemmeno noi quando abbiamo iniziato questo percorso dieci anni fa. E oggi invece raccogliamo i frutti di tanto sacrificio, di un grande leader, Giorgia Meloni, che ha saputo dimostrare non solo che le donne sono brave, che non hanno bisogno di essere spinte da nessuno per arrivare a governare questo paese, ma soprattutto la possibilità di rappresentare davvero i più deboli, di rappresentare le fasce sociali più emarginate, di rappresentare coloro che probabilmente si sentivano un po' smarriti in questo paese, che andava avanti più per raccomandazioni e non per il merito. Oggi dimostriamo proprio questo, se si vuole con l'impegno si può arrivare anche a ottenere risultati non pronosticati.